Giro di po' del mondiale Superbike si è corso a Most una settimana dopo il round di Donington, esattamente come nel round inglese anche il circuito della Repubblica Ceca ha un vero e proprio padrone, un vero e proprio dominatore al secolo, quello bravo con il 54 con la BMW Top Rekarazgatioglu, infatti arriva 10 vittorie consecutive, ennesima tripletta in Superbike e di conseguenza abbiamo una certificazione ulteriore di come il Turco sia il padrone di questo campionato mondiale. E un po' era prevedibile, non per le super concessioni che sono state concesse a Honda e in particolare a BMW, ma perché appunto le piste dove Razgatioglu ha fatto le tre triplette consecutive, ovvero Misano, Donington e Most, sono piuttosto tecniche e con pochissimi freni a cellera, cosa che invece favorivano il pacchetto della Ducati Panigale V4R. Comunque Razgatioglu ha fatto quello che voleva, si è permesso di vincere ancora una volta tre gare consecutive nei modi totalmente più vari e disparati, una più combattuta con appunto una sprint race alla domenica mattina, con qualche evidentemente attacco sui piloti davanti, vedi Nicola Bulliga, una gara 2 gestita nel migliore dei modi, una gara 1 assolutamente dominata per il re dello stoppito, perché Razgatioglu che fa suonare per tre volte consecutive la marcia dell'indipendenza. Più che però certificare come Razgatioglu sia il netto favorito a questo campionato mondiale, è giusto certificare altrettanto che abbiamo un duello per quello che sarà il titolo 2024 Superbike e non più un triello come poteva essere fino a qualche gara fa, lo stesso Donington poteva essere ancora indicativa in tal senso. Dico un duello perché per quanto riguarda gli altri contender di Razgatioglu, ovvero Bautista e Bulliga, abbiamo avuto una grande debacle del pilota spagnolo che sta facendo purtroppo riemergere quei lati negativi che lo avevano fatto perdere il mondiale del 2019. Mi spiego, io sono un grande tifo della Ducati, in particolare del tema ufficiale, quindi vedere comunque la Ducati che vinceva anche nelle altre categorie in Superbike anche dominando non è stato poi così tanto un male, certo però vedere un Bautista così falloso e così ingenuo francamente è un qualcosa che fa tanto male, perché nella gara sprint della domenica mattina Bautista tenta un grande attacco a Nicolo Bulliga, rischia di compromettere la gara anche del suo più giovane compagno di squadra e di fatto finisce after the music cadendo con Bulliga che tirerà dritto e comunque arriverà in ogni caso in seconda posizione. Ma è un Bautista parecchio falloso, grandissime responsabilità attribuisco al pilota spagnolo nella caduta della domenica mattina perché con questa caduta e anche col crash di gara 2 di fatto Bautista si toglie dal contender del campionato del mondo. Subendo non solo la pressione di Topras Gazatioglu che comunque sta facendo faville con la BMW e non è merito della moto con le super congestioni, ma attenzione è molto merito del pilota turco in quanto Razgatioglu, ma poi ci arriviamo, tornando su Bautista appunto ha dimostrato quanto soffra anche Nicolo Bulliga perché appunto il pilota di Montecco Emilia lo strabatte continuamente, anche oggi Bulliga si dimostra ed è certificato come il principale contender a questo Razgatioglu ed è l'unico che più o meno gli sta a un distacco considerevole mentre Bautista purtroppo per vari motivi finiva after the music. È incolpevole invece Bautista nella carambola di gara 2, una gara 2 che vede un contatto nell'imbuto di curva 1 di Most, una delle curve peraltro più pericolose secondo me dell'intero mondiale, con un sandwich atleta Remy Garner su Yamaha GRT, la Ducati Barney Spark di Danilo Petrucci e appunto lo stesso Bautista che era segnato deve purtroppo segnare un altro zero nella sua cadena del suo mondiale, è peccato però perché appunto Bautista in condizioni normali aveva anche il passo per arrivare a podi, poteva assolutamente limitare i danni in una classifica del campionato del mondo che adesso invece lo vede veramente lontano perché appunto Razgatioglu continua ad allungare e appunto ancora una volta tre vittorie consecutive, 10 se contiamo anche la gara 2 di Assen, 303 punti per Razgatioglu, Bautista è a 199, veramente un'eternità, pensare che appunto da Nicola Bullega Bautista scrive meno 40 che è una cosa tra virgolette impensabile o incredibile a certi punti di vista perché Bullega doveva arrivare qui con lo status da Ruchi per imparare comunque anche da Bautista che sono aducati, ha fatto veramente il bello e il cattivo tempo anche negli anni belli e anche quest'anno comunque le soddivazioni Bautista se le è tolte e invece evidentemente Bautista sta soffrendo questa grande situazione che appunto lo vede da una parte sul decidere cosa fare perché comunque Bautista ha 39 anni e comunque deve pensare lo stesso al suo futuro, dall'altra prendere comunque da tante gare a questa parte la scoppola da Nicola Bullega che è un rookie, vero, campione del mondo con la Super Sport con la stessa moto, però insomma non è propriamente il massimo e tutto questo ripeto suona per tre volte la marcia dell'indipendenza con Razgatioglu che qui arriviamo al discorso precedente certifica ancora una volta di essere un fenomeno, è vero che la BMW ha delle super concessioni ma alle super concessioni ce l'ha anche la Honda e la Honda pur essendo un progetto comunque nuovo, la nuova firma del CBR 1000RR è un flop, basta vedere le posizioni dei piloti che rappresentano Honda anche in questa gara, lasciamo perdere i sostituti del team MIE, Hayden Gillingham e Leandro Mercado che sono finiti after the music ma si sapeva, anche la Honda se va bene fa top 10 e ha le super concessioni come BMW e a parte Razgatioglu e la gara 2 molto interessante di Michael van der Mark, anche le altre BMW sono finite after the music la classifica di Wikipedia è qui apposta per parlare di questa cosa quindi è evidente anche una volta come Razgatioglu sia un pochino il Verstappen della Superbike o non dal punto di vista caratteriale perché Razgatioglu è nettamente meglio di Verstappen vedere cosa ha fatto oggi Verstappen in Ungheria, gli ha imponerato le coglioni in Mondovisione Razgatioglu comunque dovunque va riesce a fare tantissime cose perché su Kawasaki Tim Puccetti ha fatto i primi podi della carriera con una moto inferiore quando Kawasaki era al top non come adesso che è un fantasma con Yamaha R1 ci ha vinto un mondiale con una moto inferiore e l'anno scorso con la testa bautista con una moto nettamente inferiore dove servivano dei cavalli in più e si giocava solo su alcune piste Most, Misano, Donington, quelle piste tecniche dove invece Ducati faceva leggermente più fatica con una moto che comunque è invece sviluppata bene, ha il motore in più che serviva rispetto alla Yamaha aggiungiamo il fatto che poi Razgatioglu è pure un fenomeno allora ecco spiegato la tripletta che era abbastanza pronosticabile io anche nel video scorso di Donington ho detto attenzione che a Most Razgatioglu può essere molto competitivo quindi comunque è vero che la casa di Monaco è comunque cresciuta basta vedere i piazzamenti di Van der Mark ma è altrettanto evidente come dal mio punto di vista Razgatioglu ci metta tanto ma tanto del suo e questo mondiale ha preso già ancora una volta la via della Turchia per la seconda volta evidentemente come proiezione certo siamo soltanto al giro di Boa ci sono però piste molto competitive per quanto riguarda la Ducati c'è la novità di Cremona insomma da Portimao in poi potrebbe giocarsi un altro campionato con Ducati che dovrebbe a questo punto buttare su Bullega per contendere il titolo del mondo a meno che Bautista non si reinventi come quello straordinario pilota che c'è stato fino a due stagioni fa o meglio alla stagione scorsa per avere una rimonta che avrebbe del clamoroso l'unico contendere appunto è Bullega ma appunto Bullega raramente è cercata con Razgatioglu e ripeto non è soltanto un discorso di super concessioni per arrivare al risultato del weekend abbiamo comunque avuto dei podi parecchi interessanti abbiamo avuto una grandissima Italia in generale in quel di Most perché tanti nostri piloti hanno fatto delle top 10 e anche dei podi a cominciare appunto dal Danilo Petrucci di qui sopra tantissimo competitivo a Most qui il pilota Umbro che con la Ducati del team Barney Spark centra il secondo podio della stagione ed è un podio molto interessante perché appunto Petrucci non è al meglio ed è finalmente partito in una posizione avanti in classifica, in qualificazione e quando Petrucci parte avanti in classifica banalmente riesce a concretizzare il potenziale che ha con questa moto quindi ottima seconda posizione per Petrucci torna sul podio anche Andrea Iannone con la Ducati del team Go11 Iannone non andava a podio da Barcellona quindi veramente tarda tanto tempo anche qui Iannone però ha fatto meglio in gara 1 che in gara sprint e in gara 2 ma appunto in gara 2 in realtà con un errore anche coinvolto nei vari crash ha dovuto rimontare da dicendo la misma posizione fino poi all'ottava per la sprint race invece abbiamo la solita doppietta la sgattioglu primo e Bullega secondo in terza posizione abbiamo Alex Lowes che comunque è stato competitivo in generale per gran parte del weekend tranne in gara 2 dove appunto ha dovuto scontare due long lap penalty per falsa partenza il terzo posto per il suo di Alex Lowes invece in gara 2 lo ha preso Andrea Locatelli ed è un podio altrettanto importante il pilota Yamaha ufficiale non andava a podio da Phillip Island per una Yamaha che appunto non è quella che era competitiva già l'anno scorso sempre con Locatelli e Rasgattioglu ma ha fatto un notevole passo indietro perché appunto BMW in generale è cresciuta anche con Michael Van der Mark e qui Amos era veramente competitivo Locatelli comunque rappresenta la terza forza in campo quindi la Yamaha se tutto va bene si gioca le posizioni che vanno dalla quinta alla decima e quindi anche un exploit con le cadute di Bautista e Petrucci solo si poteva anche aspettare quindi una prova per Andrea Locatelli gli altri italiani non ne abbiamo detto dobbiamo parlare invece di Axel Bassani che purtroppo con questa Kawasaki non riesce ancora ad adattarsi e sta molto dolendo rispetto alle aspettative dopo anni però con Ducati certo comunque un apprendistato con la moto verde effettivamente è importante farlo zero punti purtroppo per Bassani discreto invece Michael Rinaldi che fa due punti su tre evidentemente nelle gare undicesimo in gara uno settimo in gara due con un'ottima rimonta decimo invece purtroppo in gara sprint e non va evidentemente comunque a prendere punti più in Italia comunque che può sorridere può guardare con buoni occhi il futuro di questa categoria derivata dalla serie che appunto riprenderà la storia a Portimao dopo i due round consecutivi a Donington e appunto a Moss sono 12 round in programma colgo l'occasione sempre per ricordare che io il sabato 21 settembre sarò presente in quel di Cremona appunto per una solita giornata di superbike ce l'ho praticamente a 45 minuti da casa il cibo di San Martino al lago quindi arriveranno vlog e reportage direttamente dalla sede di Cremona soltanto però per la prima giornata ma prima di Cremona ci sarà Portimao e Magnycourt dove verranno anche le altre categorie a cominciare dalla Supersport una categoria anche qui dominata e come succede evidentemente in Superbike anche in Supersport abbiamo un autentico e proprio dominatore Adrian Quertas fa l'ennesima doppietta e un po' come effettivamente successe da Assen in gara 2 chi effettivamente comanda la classe regina e la classe di mezzo fa doppietta e vince in tutti i modi in tutti i laghi Adrian Quertas qui è nettamente superiore a Moss sia in gara 1 che in gara 2 e va evidentemente a vincere appunto entrambe le competizioni allungando come vedete dalla grafica a sinistra seppur tagliata a 236 punti con 390 di Iari Montella che fa soltanto però un podio su due gare terzo posto in gara 2 gara 1 infatti Montella la finisce in quarta posizione con podio completato da Valentin De Bees e Stefano Manzi su Yamaha Manzi conferma comunque l'ottimo status di forma e fa un altro podio in gara 2 appunto terzo con Iari Montella che fa un grande duello evidentemente sempre con Valentin De Bees che però viene penalizzato e di conseguenza Montella sale in terza posizione eliminando un pochino i danni a questo punto i punti di distacco sono 46 per quanto riguarda il distacco per Iari Montella che comunque con 6 round ancora da giocare per 2 gare ciascuno è veramente tanto e vedremo comunque Quertas sembra indirizzato verso questo titolo del mondo e sarà il pilota del team Barney Spark a provare a fermare la a corrente Quertas destinato evidentemente in superbike esattamente come Iari Montella pilota campano corriamo a parlare adesso anche della Supersport 300 una Supersport 300 che anche qui vede una doppietta anche se qui è più inaspettata perché vince Loris Veneman pilota landese del team MTM Motorsport per quanto riguarda Kawasaki Veneman riesce comunque ad assarsi in terza posizione assoluta in questo campionato mondiale con il leader del campionato Nilo Iglesias che però perde dei punti mi guadagna un pochino Aldi Maindra secondo in classifica per un campionato del mondo della Supersport 300 che anche qui è arrivato al giro di Bo a 4 round completati con Most su 8 previsti è un podio completato per quanto riguarda gara 1 appunto da Loris Veneman per il quale suona Helt Vilelius in nazionale olandese in seconda posizione Mark Garcia spagnolo campione del mondo 2017 della 300 che peraltro sarà un campionato andare a istingorsi l'anno prossimo appunto sulla moto cinese chiamata Cove e poi la grande rivelazione del weekend su tutte le categorie il pilota australiano Carter Thompson su Kawasaki del team RT Motorsport Carter Thompson è stato chiamato in situazione di Peter Svobo da pilota di casa che è infortunato e Thompson non solo si toglie l'uso della pole position in gara 2 ma di un grandissimo podio in gara 1 ricordiamo Carter Thompson 16 anni pilota australiano ne avremo modo di cui riparlare sia l'anno prossimo nell'ultimo anno di vita secondo me della Supersport 300 sia nel campionato successivo che verrà a far parte nel 2026 con moto di cilindrata leggermente superiore in gara 2 si conferma invece Loris Feneman che di fatto va a vincere per quanto riguarda una gara 2 della Sport 300 incredibile per un millesimo in realtà avrebbe vinto Inigo Iglesias ma viene penalizzato post gara per manovra scorretta e quindi Feneman fa doppietta davanti a Iglesias e a Aldi Maendra pilota indonesiano questi tre sono i tre principali conterni di questo campionato Supersport che appunto prevede 8 round e che riprenderà l'ostradità anche qui da Portimao dove tornerà anche il mondiale femminile chiudiamo dunque il resto in podcast con l'ultima visione della classifica della Superbike con Rasgattioglu che continua a dominare in lungo e largo questo paddock e va a 303 punti il primo a scominare questa quota secondo un ottimo Nicola Bullega molto costante nelle prime due posizioni ultimamente a 239 a meno quanto la Bullega c'è Bautista che secondo me si è chiamato fuori definitivamente da questo campionato del mondo Superbike voi invece cosa ne pensate? ovviamente aspetto nel caso i vostri commenti qui sotto per i vostri piloti preferiti il saluto da parte di Matthew Thorgard ci vediamo al prossimo video Grazie